Salve, vi voglio presentare un altro galleggiante della DitaBaz, un nuovo modello, si chiama K65, un galleggiante per rovesciata allungato, ideale per la pesca nel laghetto, con la deriva in carbonio e l'antenna cava. Una particolarità di questo galleggiante è che si può sostituire l'antenna, si tira via l'antenna cava e si ha un'antenna cava rossa o un'altra antenna cava nera. Una cosa molto particolare e fondamentale è che l'antenna, quando entra fino alla base del corpo del galleggiante, rimane un centimetro vuota internamente. Questo serve per la taratura del galleggiante e per la visibilità, perché la luce del sole attraversa l'antenna che è cava ed è molto più visibile il galleggiante in qualsiasi condizione di pesca. range parte da 0,10 e arriva fino a 1 grammo.